Il secondo anno che questa amministrazione decide di investire e puntare su questa data così importante appunto per rigenerare l'attrattività e far sì che anche in una giornata come quella del Ferragosto possano arrivare tante persone, un festival, l'Adriatic Dance Festival dedicato ai giovanissimi con la musica elettronica, quest'anno spalmato in due giornate all'Arena del Mare. Il 14 avremo un monumento di questa tipologia di musica, cioè di J. Ralf e vogliamo dire che gli ingressi saranno gratuiti e ci saranno anche importanti novità per quanto riguarda la mobilità e la viabilità, infatti sia il 14 che il 15 dalle ore 19 verrà chiuso il tratto di riviera Interessato che va da via Paolucci all'incrocio con via Puccini e il primo tratto di riviera fino a via Buozzi. Piazza Le Laudi anche sulla riviera Sud avremo un genere musicale diverso con la Tribute Band in opera dei Pu e poi avremo anche il pomeriggio del 15 agosto, cioè di Ferragosto, alla nave di Cascella allo Stadio del Mare, un color beach party dalle 16.30 alle 21 anche lì per animare diciamo integralmente la nostra riviera e ci auguriamo che dopo il successo che ci sarà della notte dello shopping di cui siamo sicuramente certi, anche il Ferragosto potrà essere una data importante che arricchirà questo calendario di eventi davvero significativo per la città di Pescara.